Buongiorno amici, un salutone dal vostro Adobora. Allora, andiamo avanti con il libro Il Transurfing Vivo e iniziamo il capitolo intitolato L'intenzione di salute. Partiamo subito. Per quanto strano possa sembrare, ricevo molte lettere con richieste d'aiuto per il recupero della salute. È ovvio che in assenza di salute, di controllare la realtà non si possa neppure parlare, perché è normale che le questioni di sopravvivenza occupino tutti i pensieri e siano al primo posto. Di nuovo qui però dovrò avanzare un tema apocrifo, come sembra da alcuni, cioè un tema apparentemente strano al Transurfing. Che dite della notizia che oggigiorno in Russia un terzo dei ragazzi chiamati alla leva militare è considerato non idoneo al servizio? Tra gli idoni il distretto militare arriva persino a reclutare soggetti che una volta venivano spediti direttamente in ospedale. Deve fare così, se no a fare il servizio militare non ci sarebbe nessuno. Ebbene, rispondiamo alla domanda. È un discorso che ha a che fare con il Transurfing o no? Se secondo voi la risposta è no, allora c'è da chiedersi. Con che cosa ha a che fare in generale il Transurfing? La cosa importante da capire è che la realtà cambia continuamente sotto gli occhi, ma molti non se ne accorgono e continuano a vivere per inerzia. Con i vecchi dischi in testa. Si possono leggere montagne di libri su metodi miracolosi contro ogni tipo di malattia, ma così facendo si finisce per passare la vita nella dimensione della cura. Certo, tutto dipende dal fine. Se il fine è la cura, questa potrebbe continuare all'infinito. Se invece il fine è la salute, lo si potrà raggiungere presto. Per questo il mio compito, così come lo vedo io, non consiste nell'aiutare i miei lettori a liberarsi da qualche malattia, ma nell'aiutarli a orientare la loro intenzione verso la salute. Quella primigenia, propria alla natura stessa dell'organismo. Non sono un medico e non ho una grande cultura in merito ai metodi di cura delle malattie. Tutto quello che so e cerco di condividere è una semplice verità. Come evitare le malattie? Ci sono tanti tipi di malattie e i modi per curarle formano un'enorme scienza. Com'è tutto difficile, non è vero? I pendoli hanno convogliato la gente lontano dalle fonti, cioè dalla conoscenza della causa prima di tutte le malattie. Si tratta di una verità molto semplice, di una verità pura, oserei dire. Se si risale alla fonte e si segue questa semplice verità, la necessità di una scienza macchinosa sulla cura delle malattie viene meno da sola. La verità è questa. Per essere in salute basta bere acqua viva, respirare aria viva e mangiare alimenti vivi. Ripetiamo questa frase che è importantissima. La verità è questa. Per essere in salute basta bere acqua viva, respirare aria viva e mangiare alimenti vivi. Questo è tutto quello che si deve sapere e fare. Affinché non si crei l'impressione che tutto ciò di cui scrivo sia una voce nel deserto o l'opinione personale di un dissidente, quello che in realtà sono per la società della Matrix, riporto di seguito un articolo di giornale che esprime un parere estraneo o direi quasi semi-ufficiale. Resi noti dati sul più pericoloso cibo dei fast food. Come è noto, il pranzo al volo, comodo per gli abitanti delle megalopoli, eternamente di fretta, è stato inserito dai medici al numero uno della lista dei nemici della salute. I problemi cardiovascolari, di obesità e di diabete, sempre più frequenti presso le popolazioni europee, hanno indotto i dietologi della contia inglese dell'Hamshaar, a redigere una classifica dei tipi più dannosi di cibo da fast food. Analizzando la composizione e l'apporto calorico dei piatti di fast food più popolari tra i britannici, gli studiosi sono giunti a una conclusione sconsolante. Un'unica porzione di fast food, kebab, pesce fritto con patate fritte, pizza o hamburger, contiene l'equivalente della norma giornaliera di grassi. Il titolo di assassino numero uno è stato assegnato al kebab. Un kebab contiene in media 120 grammi di grasso, mentre la norma giornaliera non dovrebbe superare i 70-80 grammi. Mangiarsi un kebab equivarrebbe a bersi un bicchiere di grasso culinario fuso. Un consumo regolare di questo capolavoro gastronomico causa un rapido aumento di peso, ma non è tutto. La cosa più sconvolgente è che, mangiando una porzione di kebab, solo due volte alla settimana, l'appassionato di pranzi veloci si vede aumentare di qualche volta il rischio di infarto. E, dopo 10 anni di alimentazione a base di kebab, si garantisce l'insorgenza di un qualche tipo di patologia cardiovascolare. Il fatto è che il grasso contenuto nei cibi del fast food è composto principalmente da acidi grassi saturi, che finendo nell'organismo si depositano sulle pareti vascolari e favoriscono lo sviluppo dell'arteriosclerosi, nonché l'incremento del livello di colesterolo nel sangue. La carne che viene usata per preparare i cibi del fast food è composta per lo più da grasso, nota nell'intervista rilasciata al giornale RBK Daily. Nikolov Adrianov, docente della cattedra di biochimica presso la Facoltà Medico-Biologica dell'Istituto di Medicina di Mosca. Peraltro particolarmente pericolosi sono i prodotti d'ossidazione del grasso, quelli che si formano dopo la frittura. Queste sostanze deteriorano le membrane cellulari del cuore, del fegato e dei vasi sanguigni, cambiano la composizione del sangue e alterano il cambio dei grassi, fatto che alla fine causa un'affezione del sistema cardiovascolare. I grassi dannosi tra l'altro sono contenuti non solo nella carne delle polpette fritte e nel kebab, ma anche nelle patatine fritte, intrise d'olio vegetale fritto più volte. Quindi salsicce, hamburger, kebab e salami, nonostante il loro aspetto appetitoso, non sono altro che il primo passo verso il cammino che porta all'infarto. Un altro rischio cui si sottopongono le persone che si cibano regolarmente al fast food è quello di provocare dei cambiamenti reversibili a livello del fegato. Una dieta di questo tipo favorisce infatti il brusco incremento della quantità di un fermento epatico, l'ananina aminotransferasi. L'aumento dell'ananina aminotransferasi si registra di solito nei malati d'epatite, ha spiegato a RBK Daily Natalia Ugarova, professoressa di scienze chimiche della facoltà di chimica dell'Università di Mosca. Di norma questo fermento, dice questa professoressa, di norma questo fermento si trova all'interno delle cellule epatiche, ma quando il fegato presente delle affezioni serie, le membrane delle sue cellule diventano sottili, le cellule scoppiano e il fermento defluisce nel sangue. Gli specialisti dell'Associazione Medica Britannica hanno studiato l'effetto di cibi fritti, dolci e ipercalorici su tre gruppi di volontari. Già dopo la prima settimana di esperimento, i volontari registravano un aumento del numero di alanina aminotransferasi, un accumulo di grasso nelle cellule epatiche e salti dei livelli di insulina. Dopo 4 settimane, i partecipanti evidenziavano una progressiva diminuzione della sensibilità all'insulina, all'alterazione che stava causando una disfunzione metabolica e una serie di anomalie biochimiche potenzialmente determinanti la formazione di prerequisiti del diabete e di malattia coronarica. A questo punto, temendo per la vita dei volontari, gli studiosi hanno deciso di interrompere l'esperimento. Purtroppo, benché tutti sappiano dei danni del fast food, rinunciarci non è così semplice. I ricercatori all'Università di Princeton nel New Jersey hanno dimostrato che i cibi del fast food suscitano nelle persone una dipendenza simile a quella dei narcotici. Il dottor John Hebel ha rilevato che un'alimentazione a base di prodotti grassi e dolci attivizza l'elaborazione della dopamina, responsabile sia della sensazione di piacere che della sensazione di forte attrazione verso qualcosa. Le cavie, per esempio, potendo scegliere tra un'alimentazione grassa e dolce e una normale ed equilibrata, hanno rifiutato il cibo a loro abituale, optando per quello del fast food. La cosa grave è che spezzare il circolo vizioso del fast food diventa problematico. Un endocrinologo dell'Università di Washington, Michael Schwartz, ha scoperto che, accumulando peso, gli amanti del kebab e delle patatine fritte finiscono per sviluppare un'insensibilità alla leptina, l'ormone che controlla l'appetito. Ecco perché una delle cause della pandemia di obesità e dell'incremento dell'incidenza della bulimia nervosa, assunzione incontrollabile di cibo, è da vedere nella larga diffusione di cibi precotti e di fast food. Sovraccarichi di grasso, di grassi, zucchero, esaltatori di sapidità e conservanti. Uno studio del Fondo Britannico per la Salute Mentale, Mental Health Foundation, ha dimostrato che il fast food è responsabile anche dell'aumento crescente del numero di anomalie mentali. È stata rilevata una stretta correlazione tra l'insorgenza di uno stato depressivo, la malattia di Alzheimer, la schizofrenia e un largo consumo di cibi precotti di fast food. A questo proposito, negli ospedali psichiatrici della Gran Bretagna, uno dei principali metodi di trattamento prescelti è stata la terapia dietetica a base di largo consumo di pesce, verdura, frutta, noci, cereali con l'esclusione assoluta di cibi raffinati e fritti. Secondo la testimonianza del dietologo della clinica di Roder South, nella contea dello Yoshae del Sud, già dopo un mese di questo trattamento, i pazienti si dimostravano molto meno propensi a lamentarsi di depressione, avevano migliorato il sonno e le loro condizioni generali di salute. Se ne conclude che rinunciare all'abituale porzione di kebab contribuisce alla salvaguardia non solo della salute fisica, ma anche di quella mentale. Ovviamente il fast food è un caso estremo che vale appena la pena di prendere in considerazione. Ho deciso tuttavia di riportare quest'articolo per farvi notare che persino la scienza ufficiale comincia a riconoscere l'affinità tra questo tipo di cibi e i narcotici. In generale dovrebbe essere evidente che non c'è praticamente una gran differenza tra il fast food e gli altri tipi di cibo morto. Bene amici, per ora ci fermiamo qui, ma solo per ora. Questo articolo andrà avanti con il prossimo video. Mi raccomando, non ve lo perdete e ricordatevi sempre che vi voglio bene. Alla prossima. Ciao!